VOGA 2015, giorno 30. L'argomento di oggi è completa questa frase «Grizzly è...». Beh, direi che è molto semplice. Grizzly è testardo. Sono sempre stato testardo, ho sempre cercato di mettere tutto me stesso nei progetti che ho cominciato e di portare forzatamente tutti i progetti che ho cominciato sino alla fine. Nell'esempio il VOGA 2015, così come ne è stato l'esempio il VEDA che ho fatto sul mio canale in lingua inglese. Arrivare a girare in... sino a questo momento 30 vlog, un vlog al giorno per 30 giorni, sicuramente è stata una sfida interessante che mette un po' in evidenza qual è la mia testardaggine, quella di dire «ok, se comincio una cosa voglio arrivare sino in fondo a quella cosa». E questa testardaggine l'ho applicata molto sul mio lavoro, l'ho applicata sulle mie amicizie, ho sempre considerato di mettere l'anima e il cuore anche nelle mie amicizie. Non lascio mai le cose a metà, per così dire, e quindi non so se la mia testardaggine sia un punto positivo o negativo. Diciamo che riconosco di essere molto testardo, tutto qui. E voi? Completate la frase «Il mio nome è» fatemelo un po' sapere sui commenti, oppure se avete fatto un video voga potete pubblicare l'indirizzo come video risposta. Noi ci vediamo domani per l'ultimo vlog del Voga 2015. Ciao a tutti e grazie!